Agibilità in deroga, no? Siccome c'è stato anche un simpaticone di agente immobiliare milanese che fa dei video sui monolocali di 14 metri quadrati, allora questo video è dedicato a te che pensi di poter vendere o affittare questa roba così liberamente, ti faccio notare che in urbanistica non funziona esattamente così. Non puoi dire ma questa è roba che hai condone tutto a posto, ma a Milano fanno tutti così. Hai scritto e risposto così. Ok, lo so, ho capito che a Milano c'è qualche problemino di abusivismo edilizio, quindi anche i milanesi faranno bene a smettere di aver la puzza al naso dicendo mai napoletane, mai meridionali, sono, ecco, diciamo che zona che vai, abusi che trovi. Comunque, come sta la questione dei monolocali piccolissimi da un punto di vista di legalità urbanistica? Ve lo spiego in questo video, mettete un like e condividetelo perché è importante. Intanto la prima norma, diciamo, che ha un po' regolato i requisiti minimi sanitari con i famosi monolocali a 28 metri quadrati, una persona, 38, due persone, è stato il famoso DM 5 luglio 75. Ok, e prima di questo c'era il buio? No, avevamo le famose istruzioni ministeriali 1896 che dicevano a comuni dovete avere dei requisiti minimi. Primo step. Intanto, e poi ci sono anche ovviamente regolamenti comunali che prevedevano dei limiti anche da piano regolatore o da regolamento idrizi, come vi pare. Ok? Quindi, per dire che oggi un monolocale di 14 metri quadrati è conforme, è allo stato legittimo pieno, dovete andare a vedere se avete i titoli e i permessi ante 75, tanto per cominciare e ovviamente l'abitabilità. Poi, andiamo, facciamo finta che questi abusi siano stati fatti dopo il 75 e prima del salvacasa, perché poi c'è anche la questione salvacasa che hanno ridotto i minimi a 28 e 20. Nel periodo 75 salvacasa 2024, vabbè, c'è qualcuno che ha ottenuto il condono. A parte il fatto che se ce l'avete ancora pendente il condono il comune ve lo può bocciare. No, ma urbanisticamente il comune me lo deve vedere. No, no, io qui vi segnalo, prendete carta e penna, vi segnalo la sentenza di Consiglio di Stato 2023, non di cent'anni fa, la numero 9752, in cui è stato confermato corretto il comportamento del comune che ha bocciato la domanda di condono per chi aveva fatto, ad esempio, un soppalco alto 1,95 per renderlo abitabile. Ecco, perché non aveva i due famosi 2,70 per intendi, c'è neanche 2,40. E quindi inabitabilità. Ma io il condono l'ho ottenuto, dirà uno di voi. Bravo, ma io comune come te l'ho dato e come te lo ritiro, eh? Non è che è scolpito nel marmo per l'eternità, tanto per cominciare. E comunque facciamo finta che te l'hai ottenuto, il comune non abbia neanche tanta voglia di annullare perché comunque è un problema, una lungaggine, bene, ma mi hanno dato la giubilità in deroga. Di nuovo, quella giubilità in deroga lì va annullata perché l'agibilità in deroga, e questo non lo dico io, è dal 96 che la Corte Costituzionale dice guardate che l'agibilità in deroga col condono non può derogare tutto, può derogare solamente certi particolari dei regolamenti edilizi, ma non il decreto del 75 famoso, altezza 270, 240, monolocale, acquetempi 28, 38, non la può derogare. Me l'hanno rilasciata, te l'annullo, io comune posso annullarti perché magari c'è il vicino che ti ha fatto una bella segnalazione scritta. C'è anche un'altra cosa, te gli agenti immobiliari che affitti questa roba, stai attento e cari inquilini affittuari che prendete in affitto questa roba, voi potete chiedere danni, ovviamente li dovete dimostrare, magari avete le muffe, magari avete un problema proprio di salubrità, dovete però denunciare al comune l'abuso edilizio, presunto abuso edilizio, lo dovete segnalare, chi lo dice? Lo dice l'articolo 134, testo unico edilizia, è proprio una procedura ammessa e insomma faranno vedere sorci verdi ai proprietari, ma posso quindi dare l'agibilità oggi anche con la segnalazione certificata di agibilità in deroga? No, no, perché comunque hai dei requisiti che comunque fanno riferimento all'epoca del condono e non ce l'avevi. Vabbè, è arrivato il salvacasa, dirà qualcuno di voi, benissimo, il salvacasa ha ridotto, scalando le tutte e due, abbiamo detto per due persone o una persona, da 38 a 28 e da 28 a 20. Bravi, bravi. Ma quella norma, vi faccio notare, che non va a condonare le situazioni del passato, mi va a sanare, mi consente, anzi, pardon, non a sanare, mi va a ridurre i requisiti, sì, ma per il futuro, cioè effettuando opere e interventi da oggi in poi, cioè da quando è entrato in vigore salvacasa in poi. Non è una deroga che mi va in qualche modo a sanare anche il passato, perché siamo in un regime di irretroattività delle norme amministrative, se no non si chiamava salvacasa, lo chiamavano condono nel vero senso della parola. Quindi ho fatto un po' il quadro generale da questo punto di vista. Marco qui mi scrive in diretta, io ho chiesto al comune di Milano e dice che monolocale di 20 metri quadrati non si possono fare. Ecco appunto, come questo suo collega ha scritto che a Milano in una via dove lavora lui sono tutte così, bene, sono tutte abusive, se disgraziatamente arriva un vicino o un inquilino con la bava alla bocca incavolato nero e comincia a fare segnalazioni scritte, vi fanno un mazzo, ve le dichiarano inagibili e li dovete sgombrare questi appartamentini, quindi ho fatto un po' il quadro amministrativo di come stanno le cose. Poi ripeto, lo so che a Milano sono tutti abusivi in quella strada, in quella zona, fanno tutti così, va bene, finché va tutto bene. Poi succede qualcosa, ve la fanno passare la voglia di fare queste cose, ok? Credo di aver detto tutti i punti, tra l'altro su questo aspetto, venite sul mio blog studiotecnico pagliari.it, io sono un ingegnere civile, faccio questo mestiere da abbastanza tempo, quindi so di cosa si ragiona. Quindi caro, gentilissimo agenti immobiliari milanese che fai tank, che affitti sta roba, sappilo, tieni ne conto, perché poi ce n'è anche per te, anche gli agenti immobiliari hanno le loro responsabilità da questo punto di vista. Non possono più fregarsene o ignorare questi aspetti. Ok, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, eh? Quante monolocali microalloggi trovate? Capisco benissimo che c'è una situazione di emergenza abitativa. Infatti, se siamo arrivati a questi punti, se siamo arrivati a abbassare, a ridurre i requisiti igienico-sanitari in queste casistiche, vuol dire che non abbiamo saputo gestire, fra le tante emergenze, anche quella abitativa, ma non è una... non mi stupisce dal mio punto di vista. L'emergenza abitativa, oramai, è una costante, non è un'emergenza. Non so, ditemi voi, io provo a scorrere qualche commento, non so, non li vedo, no, 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 va bene. A Milano faranno sanare i grattacieli, dai ragazzi, ne abbiamo parlato anche sul canale, vedremo, sto seguendo la vicenda. Vi annuncio in arrivo i miei due nuovi libri, non uno, due ragazzi, due, molto presto. Iscrivetevi anche al mio canale WhatsApp, oppure al mio canale Instagram, canali, eh, proprio, o se no, iscrivetevi al profilo. Marco, quindi un frazionamento di un appartamento in monolocale di 20 metri quadrati si può fare oppure no? Uno, si può fare nel momento... è qui, si può fare secondo le regole che ti ha detto il salva casa, quindi mi devi fare delle misure compensative di, ad esempio, ricambio d'aria, ventilazione, in grado di garantire un livello minimo di salubrità. Ora, te l'ho detta all'osso, ok? Inoltre, c'è un problema. Molti comuni, come avevo previsto anche io, no, eh, l'avevamo scritto nel libro Salva Casa, io e l'avvocato, molti comuni si stanno mettendo il traverso, perché anche nei centri storici, per esempio, non vogliano queste cose. Molti comuni hanno previsto, appunto, del taglio minimo di unità nei regolamenti edilizi, nei piani regolatori. La possano fare? Sì. E col salva casa come la mettiamo? Qui c'è da capire se, e ce lo devono dire giudici, come al solito. Se questo tipo di modifica è una norma di riforma economica sociale e quindi ha una forza statale in grado di schiacciare le previsioni comunali contrarie, oppure no, ok? E qualcuno, per carità, farà ricorso al TAR, come mi sta dicendo te Marco, contro il Comune di Milano, vedremo poi chi ce l'ha più lungo, scusi il termine. Però il punto è questo. Io, francamente, questa norma di riduzione così in maniera troppo piccola di questi alloggi, non la condivido. È una norma di legge che va rispettata. Come rispetterò le sentenze che diranno no, ma va bene, si può fare. Non mi fa impazzire questo tipo di operazioni. Purtroppo capisco che in certe città o si va nel monolocale di 15 metri quadrati, come era quello di 10 metri quadrati, che hanno fatto vedere, che ho commentato anch'io, no? Sui giornali, su Repubblica, per esempio, su dove era, sul fatto. Insomma, è poi diventato di dominio pubblico. Ma queste cose costi, francamente, basta, basta proprio. Non si può vivere in una stanzuccia da questo punto di vista. Vuol dire che c'è un fallimento delle politiche della casa. Marco, secondo lei appartamenti e superficie minima devono avere, ma già, già, degustibus, eh, ma già poter stare nel cosiddetto alloggio monostanza di 38 metri quadrati per due persone o 28 per una persona, come prevede il DM 5 luglio 75, davvero stretta. Però quella è una norma nazionale e voi mi direte, eh, ma chissà da casa la norma nazionale. Sì, ma forse sei anche esagerato. Cioè, qui sembra quasi che sia la norma che va a inseguire la diffusione degli abusi. Eh, ma tanto a Milano sono tutti abusivi. Allora, probabilmente, c'è anche un problema di controllo di territorio che non riusciamo più a fare. Forse è questo il punto. E comunque, Marco, ti posso assicurare, controlla pure in tanti piani regolatori, eh, o il vostro PGT, per esempio, Lombardia, in Toscana, sono i piani operativi. Quindi controlla piani regolatori, perché molto spesso impongano un taglio minimo di unità. E molti comuni stanno osteggiando, ma già da prima di salva casa, la diffusione dei monolocali, soprattutto nei centri storici, nei centri densamente abitati, perché ci vai a ficcare molte altre persone in più. Non reggano i servizi pubblici, non reggano gli standard urbanistici, le fognature, cioè, va in crisi un intero sistema. Purtroppo l'urbanistica è una scienza che cerca un equilibrio e una qualità minima. Se non si capisce questo, si va poco lontano da questo punto di vista. Ok, rapido quadro, spero di aver chiarito tutto. Fatemi sapere, ripeto, voi nei commenti cosa ne pensate, quanti monolocali di 10 metri quadrati vi trovate davanti, cosa consigliate, soprattutto voi tecnici, ingegneri, architetti geometri, ai vostri clienti, cosa dovremmo fare. Io francamente sconsiglio questo tipo di alloggi, ripeto, non ritengo che possano garantire un alto standard di qualità di vita. Poi lo so, ci sono quelle persone che magari sono lì, che lavorano sei mesi in quella città e hanno bisogno proprio del minimo necessario, ma, insomma, ci dobbiamo ricordare che l'urbanistica è una scienza basata sulla qualità, soprattutto della qualità dell'aria. L'urbanistica è nata proprio per problemi igienico-sanitari, perché c'era il colera in certe regioni che non si riusciva a debellare o altre tantissime malattie. Quindi, in modo locale, voi mi direte, ma gli alberghi, è ok, l'albergo è una tipologia un po' diversa, cioè l'albergo, uno nella stanza, è una camera, uno ci dorme e comunque sono stati normalmente realizzati, progettati e costruiti con dei sistemi di ventilazione meccanica che garantiscano loro. Ma, infatti, l'adergo è salva casa, ti dice, io ti derogo la superficie minima, ma te in cambio mi dai questo tipo di adeguamento igienico-sanitario, impiantistico, ventilazione, bene, ma appunto è una deroga che è condizionata a opere. In futuro non è una deroga che mi va a sanare il passato. Quindi, chi va a fare le sanatorie di questo tipo e ora parla tecnici, state attenti, non andategli a dire, no, ma il salva casa ha derogato, io vengo a fare la sanatoria e uso i requisiti minimi anche per l'alloggio monolocale fatto 20 anni fa abusivo. Calma, ci avete la doppia conforme, come direbbe qualcuno, ci avete la doppia conformità anche semplificata, ma voi non avete i requisiti minimi igienico-sanitari all'epoca dell'abuso, perché all'epoca dell'abuso 20 anni fa non avevi la riduzione salva casa, casomai avevi quelli già vigenti del DM 5 luglio 75. Alt, poi tu c'hai anche quelli previsti dai comune, che potrebbero essere comunque minimi e superiori a quelli, ai famosi 28-38 che c'erano prima. Quindi io ci farei la dovuta attenzione da questo punto di vista. Daniele, per gli alloggi di 10 metri quadrati eccetera ci sono gli alberghi e i BNB dove gli ambienti ti sopperiscono. Tinazio, considerato l'accesso alla casa un problema sempre più evidente, quali strumenti ipotizzerebbe per affrontare in maniera seria e costruttiva questa situazione? No, no, è un'ottima domanda. Casomai, c'è una bella tipologia immobiliare che da noi non esiste, ma proprio non esiste come norma e anche come realizzazione, che sono i condo hotel, condominio hotel, dove ci sono gli alloggi monolocale, ma hanno molti servizi a comune. Già quello va bene, pratica, io prendo un albergo, lo riconverto a uso abitativo dove ogni camera mi diventa l'alloggio monostanza, ma ad esempio la lavanderia, lo comune, i servizi per esempio, no, la cucina, la sala pranzo è a comune. Ma è come vivere in una specie di collegio? Sì, però una soluzione che funziona, soprattutto quando magari c'è un target di persone, non lo so, gli anziani, questa è una soluzione che all'estero, in certi stati d'Europa lo stanno già sperimentando con successo. Oh Marco, non ho ancora capito se la legge nazionale ha più valore o meno del piano regolatore. Bella domanda, lo vorrei sapere anch'io, noi nel libro l'abbiamo detto, la norma issalvatata è una norma nazionale e soprattutto è stata emanata per decreto legge, quindi c'è una motivazione d'urgenza, c'era l'urgenza, cioè c'era scritto già nelle premesse, guardate che dobbiamo anche affrontare un problema di emergenza evitativa. Può questa norma andare a prendere a spallate le previsioni più restrittive dei regolamenti edilizi, dei regolamenti comunali, piani regolatori? Alcuni autori sostengono, certo che può, perché va intesa come una riforma economica sociale e quindi vale per tutti i cittadini, non può un comune mettersi di traverso. Altri autori sostengono invece, no? Fermi tutti. Ok, è una riforma economica o sociale, ma un comune può legittimamente prendere e mantenere o introdurre dei requisiti minimi più alti, quindi non si fanno i monolocali 20-28, si fanno minimo di 50, dico un numero. Perché, e io sto un po' da questa parte, perché per lo stesso motivo allora non era possibile farlo neanche prima, cioè anche un anno fa, senza il salva casa, il comune di Vattela Pesca ha inserito un minimo della superficie minima maggiore di 50 metri quadrati, e no, ma nel DM 5 luglio 75, che allora anche quella andava intesa come una norma di regolamento di riforma economica sociale, vedremo però, io non riesco a dire ora secondo me vincerà un orientamento o un altro, perché ci sono argomenti validi da entrambe le parti, certamente non mi fa impazzire il fatto che si possa derogare con queste superfici minimi a delle dimensioni che ritengo siano troppo piccole, e no, ma all'estero fanno, a me le fanno all'estero non è che me ne freghi poi tanto, perché l'edilizia residenziale all'estero non è migliore della nostra, noi in Italia abbiamo mille problemi risolti, per carità, ma rispetto a tanti paesi, almeno anche del nord Europa, abbiamo una qualità abitativa migliore, altra cosa, non possiamo fare il paragone con la Svezia, l'Inghilterra o la Germania, hanno condizioni climatiche diverse, soprattutto più fredde, noi siamo un paese che va da Bolzano fino a Pantelleria praticamente, siamo un paese che, visto anche l'andazzo, siamo subtropicali, e la qualità dell'aria, quando la temperatura è anche più alta, tende a essere peggiore, questo lo sappiamo, chi ha dato un esame di ingegneria sanitaria ambientale, come me, lo sa, dovrebbe saperlo, quindi è inutile dire no, ma all'estero, no, no, abbiamo bisogno di una quantità minima di aria per il respiro per la persona, per la carica batterica, e compagnia bella, l'umidità, queste cose, ridurre un po' troppo questi aspetti qui, non è bello, infatti, salva casa ti dice, io ti derogo, ma te in cambio mi devi mettere un sistema che mi possa garantire la solubilità, mi devi garantire il ricambio dell'aria, mi devi garantire un minimo di standard qualitativo, questo ha voluto salva casa, ok? Vedo altri commenti, ragazzi, io vi ringrazio, potete lasciare anche commenti sotto, un differita, non solo un diretta, caro Pagliai, ingegnero urbanista, io vi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione, ci diamo appuntamento alla prossima live, seguitemi anche sul blog studiotecnicopagliai.it, ciao a tutti!